Grazie a tutti. La parte particolare, speciale, perché dà un messaggio di ottimismo in un periodo di grave crisi economica. Il tutto, da quello che mi sembra di aver capito dalla presentazione di questa mostra, il tutto, anche quello che è decaduto, quello che non è più recuperabile, potrebbe essere utilizzato in futuro attraverso una creatività che è un'attività. E' un messaggio positivo che noi riceviamo in questo particolare momento e credo che sia una grande occasione per apprezzare l'arte di grande risorse che abbiamo sul nostro territorio, nel nostro mezzogiorno. Per di questo volevo ringraziare l'amico Michele Amico per aver scelto Battivalli. Grazie a voi per la vostra ospitalità. Sono veramente contento. Oltretutto ho trovato un ambiente veramente eccellente sotto tutti i punti di vista, dal modo in cui sono stato accolto e alla tranquillità del luogo che io ho apprezzato tantissimo. Grazie.